Questa è la prima intervista doppia che faccio sul canale, quindi fatemi vedere il vostro supporto con un bel mi piace Arriviamo a 10.000 mi piace, commentate appunto la vostra qua sotto nei commenti E niente ragazzi, godetevi l'intervista doppia Nome Antonio Riccardo Nome su YouTube ZV Jackson o comunque ZV Talox Anni 20, quasi 21 19, 20 a giugno Che squadra tifi? Juventus Napoli, da sempre Colore preferito? Verde o nero? Colore preferito? Il bianco Dove sei nato? Messina In Sicilia, poi mi sono trasferito in provincia di Bergamo e adesso Roma A Terni, il 24 giugno 1999, il nome dell'ospedale non me lo ricordo però Prima volta allo stadio? Una partita dell'Atalanta, perché giocando a Bergamo ci portavano allo stadio Prima partita che ho vista allo stadio, un Siena-Napoli terminata 1-1 Con gol di Pandev, mentre eravamo in svantaggio 1-0 Quanti iscritti hai? 292.200, una cosa del genere 4.300.000, anzi iscrivetevi 196.801 in questo istante Speriamo arrivare a 200k presto Primo video insieme Eh, non ne ho idea Penso un mito di FIFA, un qualcosa, un qualcosa del genere Non lo so, non ne ho idea Primo video insieme a ZV Sai che non me lo ricordo, ma mi sembra che sia un mito che abbiamo fatto insieme Se non erro Tu te lo ricordi, io no Relazione più lunga? Tanto, tre anni e mezzo, una cosa del genere Tutta la mia adolescenza 6 mesi, mi sembra, sì Mai andato a letto con una fan? No, di solito diventavano fan dopo No, mai Anche perché non abbiamo fan femmine noi, quindi sarebbe pedofilia Capitale della Turchia Istanbul Istanbul Mazzucata Tu mi la sai Capitale della Repubblica Ceca Praga Penso Capitale della Repubblica Ceca Vienna Tanto va la gatta al largo Che ci lascia lo zampino Che ci lascia lo zampino Questa era semplice, dai Rosso di sera Bel tempo si spera Buon tempo si spera Mi sembra, sia una cosa del genere Ronaldo o Messi? Ronaldo Tutta la vita Pure se non giocassero a Yume Messi, tutta la vita Che youtuber vorresti essere? Human Safari Ciao human, se mai guarderei questo video Klaus Sono sincero Youtuber con cui vorresti collaborare? Uno youtuber di cucina È il mio sogno Voglio fare un video con un youtuber di cucina Uno youtuber con cui vorrei collaborare Collaborare se a livello di FIFA mi piacerebbe moltissimo con home Mentre se diciamo una cosa generale con Dread Youtube o Twitch? Oddio su Twitch c'è proprio un'altra cosa Ho anche il canale Twitch Appena mi sistemeranno la linea internet appunto Ritornerò a fare le streaming Diciamo che sono due cose diverse Youtube mi ha fatto nascere Ma i ragazzi di Twitch sono come una famigliona Quindi non ti saprei rispondere Youtube tutta la vita Come ti chiami su Instagram? Zv.jackson O zvjackson Chiocciola Riccardo Dalotti Andatemi a seguire Un video di cui ti vergogni? Eh, molti Io non riesco nemmeno a rivedermi video di due settimane fa per dire Perché proprio io mi vergogno di qualsiasi cosa appunto sia superata E sono fatto così Penso sempre al domani Mai al A ieri Un video dove Facevo scegliere le carte del draft A tutte le mie amiche di classe Che le chiamavo al telefono E gli facevo scegliere insomma queste carte E' stato sì molto imbarazzante Devo ammettere Poi era uno dei primi video Quindi capirai Non facevo proprio niente C'avevo pochissimi iscritti Ma che viso Allora era abbastanza imbarazzante Un video di cui vai fiero Quello con Pirlo Che purtroppo non è andato benissimo sul canale Però cavolo un bel video quello lì Carriera a modo vita reale Ogni episodio E' stata Quella è stata proprio una mia idea E sono proprio fiero Hai mai fatto un video fake? A voglia Sì 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 C'erano dei momenti che Il canale iniziava un pochino a scendere Allora Sì Eh per forza Forse sì All'inizio quando avevo fatto i primi video mi sembra di sì Youtuber che non ti sta simpatico? Ultimamente Blur non è che mi piaccia tantissimo Nel recente Però prima lo stimavo Adesso non so Boh Non so Follettina creation E zangato Paranormal zangato McDonald o Burger King? Burger King McDonald Stiamo scherzando? Uber o taxi? Eh Uber non l'ho mai preso Però Tra l'altro mi sembra che abbia anche chiuso in Italia Quindi devo per forza dire taxi Uber Anche se non prendo mai nessuno dei due però Uber Del Piero o Totti? Del Piero Sono Juventino Però comunque anche Totti merita Totti? Hai tatuaggi? Sì Ne ho tipo nove Otto nove Ne ho tanti comunque No Per il momento no Se arrivi un milione di iscritti? Se arrivo un milione di iscritti Vuol dire che avrò abbastanza soldi E quindi farò un bel regalo a mia mamma Eh se arrivo un milione di iscritti Invito tutte le modelle per fare un draft Insieme a me tipo 7-8 modelle A pagamento E facciamo un mega draft Anzi faccio il draft delle modelle Pro o contro? Matrimoni gay? Pro Contro Libri degli youtuber? Contro 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 E' proprio di dividere lo youtuber da appunto l'artista Quindi cerco appunto di fare queste distinzioni Contro Andresti a letto con un maschio per un milione di iscritti? No 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 Convincili a lasciare un mi piace Raga lasciate un mi piace E facciamo un'altra intervista doppia Ancora più Più figa Mi basta? Forza ragazzi lasciate un mi piace Perché questa intervista doppia è davvero immarazzante in certi punti Convincili a iscriversi Raga se vi iscrivete vi do un biscotto Ve lo porto dritti a casa Dai raga iscrivetevi mi raccomando per nuovi contenuti e nuovi video Così imbarazzanti Salutali come farebbe l'altro Ciao ragazzuoli qui è il vostro buon Non riesco a fare Non riesco Ciao ragazzuoli come sempre qui da Talox è tutto Team Talox team Diff Qui da ZV è tutto Bella raga